ciao ignari appartamento fantastico pronto ad abitare condizioni eccellenti pronto ad abitare gavardo gavardo in centro comodo a tutto una posizione super tranquilla super tranquilla e comodo a tutti i servizi anche bello questo qua c'è un soggiorno grandissimo ma grande grande molto grande al suo garage garage in centro storico introdabile doppi vetri doppi vetri l'appartamento è pronto ad abitare bello face qui c'è una camera che può essere o a due letti o singola o ci metti anche il letto alla francese una piazza maestra cucina abitabile abitabile davvero che si mangia in otto persone a grova silenzio totale posizione stupenda termo autonomo termo autonomo airolla bel disimpegno bagno grande grande guarda come tenuto bellissimo attacco della lavatrice doccia doppia 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 bello face camera matrimoniale grandissima bella che si affaccia sul parco dell'isolo che è un posto stupendo c'è il riflesso del sole ma guarda che bello face sono quasi circa 100 metri è in condizioni ottime ottime da vedere da vedere perché è un affare è un affare prezzo affare telefona telefona subito 0 30 2 7 9 1 7 6 5 non perdere l'occasione perché è unica non devi fare nulla entrici abiti è perfetto vuoi vedere le foto www.agenti immobiliari riuniti 2 numero punto it forza venire a vedere perché è un affare va via subito vero affare col garage termo autonomo è bellissimo ciao miari